Terza vittoria consecutiva per la Forti Saltamura che allunga la sua striscia positiva, quattro risultati utili al Tonio D'Angelo, termina 1-0 la sfida con il fanalino di coda Sansevero, un match già deciso nei primi 45 minuti con la rete di Di Matera su punizione magistrale. Nel primo tempo subito opportunità per i padroni di casa costruita da disenso, conclusione della distanza velenosa deviata in angolo di non molto, dallo stesso corner a Brescia non riesce a deviare in rete di testa, spedendo sul fondo lo stesso attaccante poco dopo colpisce la traversa con un'ottima girata sempre di testa, Carlino blocca dopo lo spavento. La reazione del Sansevero è sui piedi di Romanazzo, conclusione a giro messa in angolo in tuffo da Giannuzzi. Al tramonto del primo tempo la Fortis guadagna un calcio di punizione pericoloso dal limite dell'aria. Una posizione centrale affidata di Matera, traiettoria precisa ed imprendibile, i padroni di casa passano in vantaggio, grande festa per i tifosi accorsi allo stadio, il primo tempo si chiude con l'alta mura avanti 1-0. Nella ripresa prova a reagire il Sansevero, sviluppi di un calcio piazzato, tiro da fuori di Romanazzo sventato in affanno dalla difesa altamurana. Di Matera cerca la doppietta personale con una conclusione terminata di poco alta sulla traversa. La Fortis trova spesso spazi utili per le ripartenze, ma prima a Gatto, poi a Brescia non riescono a trovare la rete della sicurezza. Il Sansevero nel finale prova a scuotersi, ma del fuoco viene prima anticipato prontamente, poi dal corner che ne consegue Giannuzzi allontana ulteriori pericoli. Triplice fischio e vittoria per la Fortis altamura, seppur di misura che rilancia le ambizioni di una Rosa adatta a competere per altri traguardi ed ora in netta scesa.